Ieri al mercato di Testaccio abbiamo presentato il microcredito 5 Stelle, è un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico su cui ci sono 10 milioni di euro di restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle a cui si può accedere attraverso una procedura di evidenza pubblica, una procedura quindi istituzionale, sulla quale i parlamentari che hanno restituito le somme non hanno nessun potere di controllo o di condizionamento. Il primo step che parte oggi è quello per tutti gli interessati di ricominciare a preparare quelle che sono le cosiddette pratiche per poter partecipare al Click Day. Ieri quando abbiamo lanciato questo sito internet microcredito5stelle.it c'è stato un po' un assalto alle sedi dei consulenti del lavoro provinciale in tutta Italia infatti se ci sono ostaggi liberateli, ve lo chiediamo per favore. Ovviamente magari abbiamo anche peccato noi di comunicazione perché vorrei chiarire, non c'è alcuna fretta. Il primo, il Click Day sul sito del Ministero per cominciare a prenotare le risorse inizierà da qui a circa 30 giorni. In questi 30 giorni è importante che tutti gli interessati che hanno un'idea di impresa o hanno un'impresa che vogliono far partecipare al microcredito debbano iniziare appunto a procurarsi quelle che sono sia le documentazioni ma soprattutto a verificare se hanno i requisiti per poter accedere a questo fondo. Il secondo step, come vi ho detto ad inizio aprile, sarà quello di un Click Day sul sito istituzionale che permetterà al cittadino interessato di compilare un form e poi il terzo step sarà quello con il voucher che avrà restituito il sito del Ministero di recarsi presso l'intermediario per eventualmente riscuotere la somma perché come abbiamo detto c'è bisogno di requisiti e c'è bisogno anche di un progetto di impresa. Noi vogliamo specificarlo, il microcredito non è beneficenza per carità, il microcredito è un credito senza garanzie reali che si dà ad un'idea di impresa, ad un progetto di impresa e deve prevedere un rientro di quella cifra. Quindi questo è importante, richiede serietà e richiede un'idea di impresa. Non sono soldi che lanciamo dai balconi. È un'opportunità, un'opportunità importante in un'Italia in cui sappiamo perfettamente che i numeri della disoccupazione crescono e raggiungono soprattutto nella fascia giovanile delle percentuali estremamente preoccupanti. Non penso di dire cose che non sono conosciute ai più, però oggi i consulenti del lavoro gestiscono 7 milioni di rapporti di lavoro dipendente e quindi noi comprendiamo bene invece quanto sia importante insieme a questo aspetto legato al lavoro dipendente gestire quelle che sono le iniziative che possono favorire l'autoimprenditorialità. Laddove non possiamo pensare a un Paese solo ed esclusivamente di lavoratori subordinati, credo sia importante invece favorire quelle iniziative sane di lavoro autonomo e di piccola o microimpresa come in questo caso. Ho sintetizzato le novità in 5 punti essenziali che secondo me sono i veri elementi distintivi. Uno, l'assenza di garanzie reali da parte dell'utente finale che è l'elemento principe. Dopodiché una copertura a garanzia in sostituzione delle garanzie reali dell'utente finale fino all'80% del fondo del microcredito. Altra cosa importante al terzo punto, l'assenza di una valutazione economico-finanziaria da parte del gestore del fondo. Questo ci permette un'enorme semplificazione e snellimento all'interno dell'iter procedurale. Al quarto punto, la garanzia è prestata a titolo gratuito, quindi non possono essere richiesti compensi. E la sintesi dei precedenti quattro punti si conclude in un iter procedurale che durerà al massimo 6-7 giorni da quando praticamente l'intermediario invierà la domanda al Ministero dello Sviluppo Economico. Volevo quindi precisare un'ultima volta, oggi il 5 marzo chi ha un'idea di impresa o ha un'impresa che rispetta questi requisiti può cominciare a metterla per iscritto, prendere contatti con il consulente del lavoro, prepararsi in vista del click day che non sarà prima degli inizi di aprile. Questo click day non sarà un giorno ma sarà l'inizio con il quale si potranno prenotare le risorse che significa cominciare a compilare la domanda e cominciare quindi ad accedere a questo strumento. Il form, il Ministero, questi campi da compilare, questo modulo da compilare online sarà già visibile sui siti del Ministero ma non operativo qualche settimana prima. Quindi i consulenti ma anche gli interessati potranno familiarizzare con quello che dovranno compilare nel click day. Dopo il click day, con il voucher restituito, con questa ricevuta che ha un numero di serie e una scadenza, ci si può arriccare presso l'intermediario finanziario per cominciare ad accedere al finanziamento. È chiaro che il lavoro che faranno anche i consulenti e per questo li ringraziamo sarà quello anche di orientare la persona che ha l'idea di impresa o che ha già un'impresa verso la possibilità o meno di accedere a questo fondo. Grazie. 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 Grazie.